Ciao a tutti, per chi non mi ha visto anche questa mattina mi presento, sono Camilla Fontana, caporedattrice e vicepresidente di Universo Fantasy. Oggi, dopo avervi già presentato un bellissimo libro questa mattina, vi parlo del secondo libro che mi ha veramente particolarmente colpito, tra quelli presentati in questa bellissima fiera, e si tratta di Bjorna Saga dei Regni del Nord di Fabrizio Corselli. Io ho avuto il grande piacere di conoscere personalmente l'autore ad una fiera all'Etna Comic Zero di Catania e posso davvero dirvi che si tratta di una persona veramente eccezionale nel senso di cultura e di personalità e questo chiaramente lo si vede benissimo nel libro. Infatti, il motivo per cui ho scelto di presentarvi questo libro è il fatto che è incredibilmente diverso da qualsiasi altro libro presentiamo noi oggi. Perché questo? Perché nonostante chiaramente possa essere classificato come un epic fantasy, in realtà è molto di più, è molto di più per la sua forma che è veramente qualcosa di speciale se consideriamo il nostro momento storico, il nostro momento di cultura letteraria che abbiamo. Quindi di cosa sto parlando in realtà? Sto parlando del fatto che questo libro sia scritto seguendo quelli che sono i dettami e della tradizione orale antica e soprattutto rimanda molto ad una rielaborazione di quella che è la poetica degli scaldi vichigni. Quindi cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dirvi che tra le mani potreste avere veramente una rappresentazione moderna di quella che è l'epica che tutti noi abbiamo studiato a scuola. Quindi io sono sicura che come li ho amati moltissimo anch'io, anche voi avrete amato l'epica per esempio di Omero, avrete amato anche magari grazie ai film della Marvel interessarvi all'epica vichinga, alla mitologia vichinga, quindi di sicuro non sono delle tematiche che vi sono sconosciute. e quindi potete rendervi conto di come questa sia una forma molto particolare per un libro. Infatti leggerete dei versi, non sarà un testo scritto in prosa. E quindi mi rendo conto che magari possa un attimino spaventare all'inizio un libro del genere. Però a mio parere non dovete assolutamente preoccuparvi perché innanzitutto è un libro breve e quindi ci permette di dedicarci più tempo, di dedicarci più attenzione. E soprattutto è una trama veramente avvincente in quanto ha proprio quel sentore epico del fantasy che noi tanto amiamo. È una storia che innanzitutto è in un continente fantastico, questo continente di Feredrin che è popolato da dei, da semidei, eroi, guerrieri, ci sono questi draghi antichi e il protagonista appunto Bjorn è alla ricerca della sua amata e compie un viaggio. E questo viaggio è un tema molto classico del fantasy ed è molto bello poterlo vedere così presente e in questa forma molto particolare. C'è un bellissimo ritmo, una bellissima musicalità in questo libro e veramente vi sembrerà di tornare a delle tematiche che già conoscete ma di riscoprirle in modo molto diverso e di fare veramente un viaggio assieme al protagonista e venendo proprio trasportati da tutti questi versi. Ovviamente essendo una lettura del genere non dirò che sia una lettura facilissima, non la farei leggere a un ragazzino chiaramente. Però io penso che tutte quelle persone che come ho appena detto si sono già avvicinate all'epica, tutte quelle persone che hanno a cuore queste tematiche possano senza problemi a partire da magari la metà delle superiori in poi riuscire senza problemi ad affrontare un libro del genere. Fabrizio innanzitutto è un educatore e quindi di sicuro i suoi libri sono alla portata di studenti delle superiori che hanno già macinato quest'epica, che stanno sviluppando le loro capacità letterarie e quindi potrebbe essere un bellissimo regalo da fare a giovani ragazzi che voi conoscete che amano queste cose. Però ovviamente io personalmente lo comprerei per me questo libro, qualsiasi adulto dovrebbe essere interessato ad averlo tra le mani. Per cui veramente vi consiglio di comprarlo perché è un libro unico nel suo genere. Non c'è niente che io abbia mai potuto leggere, mai potuto vedere in giro, soprattutto in Italia, che sia stato pubblicato in questi anni e che abbia questa forma, che sia eseguita in modo così semplice, così chiaro e fa veramente capire quale sia la cultura sconfinata dell'autore del libro. Quindi semplicemente io, come continuo a dirvi, vi consiglio veramente di comprare Bjorn Saga dei Regni del Nord, di chiedere informazioni all'autore perché è veramente una persona interessantissima, per cui questo pomeriggio più tardi ci sarà il suo video in cui presenterà lui stesso il video, per cui dateci un occhio, commentate, mi raccomando, interessatevi, compratelo, perché veramente, ne vale la pena, sarà qualcosa di diverso, che non avete ancora avuto tra le mani e non vi pentirete di aver seguito questo consiglio. Grazie a tutti per la vostra attenzione, il pomeriggio rimane pieno, pieno di attività, mi raccomando, ricordatevi che ci sono anche dei giochi in corso, quindi partecipate anche a quelli e come sempre ringrazio il collettivo Scrittori Uniti e l'Associazione Universo Fantasy per aver creato questa bellissima giornata. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!